Dipendenti della RSA di Montereale in cassa integrazione in attesa del trasferimento all'exompi. Anche questi sono effetti del terremoto. Cassa integrazione a zero ore dal 1 febbraio fino al 31 marzo prossimo per i dipendenti della cooperativa Quadrifoglio. Sono dipendenti che lavorano nella struttura sanitaria di Montereale, struttura sanitaria assistita, RSA, chiusa dopo le scosse di terremoto del 18 gennaio. I pazienti sono stati trasferiti tutti in altre residenze ospedaliere. Non è ancora completato, infatti, un iter burocratico che sta apparendo molto lungo che consentirebbe invece all'exompi, la struttura di assistenza aquilana del Comune dell'Aquila, di ospitare tutti e 35 pazienti di Montereale con il conseguente reintro dei lavoratori della COP Quadrifoglio. La proposta di utilizzare l'exompi era emersa in una riunione del 26 gennaio scorso tra i vertici della ASL, i rappresentanti del Comune dell'Aquila e dalle altre istituzioni, le sigle sindacali e i rappresentanti dei lavoratori, avanzata dal capogruppo del PD al Consiglio Comunale, Stefano Palumbo, per conto del Comune dell'Aquila, proprio per garantire la continuità lavorativa ed evitare il ricorso agli ammortizzatori sociali. Lungaggini e procedure di verifica delle normative ASL, che però rischiano di mettere in seria difficoltà tutti i dipendenti. Intanto, il prossimo 13 marzo, ci sarà una nuova riunione con la ASL e i rappresentanti delle istituzioni. Sul tavolo ci sarà proprio la vicenda dello spostamento dei pazienti, una ventina, ci sono i posti all'exompi in teoria già disponibili, questi dovrebbero consentire l'ampliamento dei posti letto fino a coprire quelli 35 necessari. I lavoratori sono pronti anche ad entrare in sciopero se non ci saranno delle risposte chiare.